Cuochi di contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. Cuochi di contrada è un'allegra competizione dove gli abitanti di ogni contrada, provetti cuochi per un giorno, si sfideranno nella preparazione di una ricetta tradizionale o innovativa. Vincerà la contrada che più saprà distinguersi per originalità, particolarità, gusto e creatività del piatto proposto. Vota chi vuoi far arrivare in finale guardando i video del piatto di ogni contrada su www.prolocosegusino.it o su www.valdotv.it oppure alle pagine Facebook Proloco Segusino o Valdo TV. La finale tra le due borgate che avranno ricevuto più voti si svolgerà venerdì 27 ottobre alle ore 20, presso la 113esima Fiera Franca del Rosario di Segusino, in una serata show cooking dove i due piatti delle contrade semifinaliste verranno preparati in diretta davanti al pubblico, degustati e poi votati dai partecipanti all'originale cena. Conduce la serata direttamente da Telebelluno la giovane presentatrice Luisa Venturin. Per partecipare alla particolare cena e far parte della giuria degustatrice della finale basta iscriversi con un messaggio whatsapp sms oppure semplicemente chiamando il numero 340 62 85 209 entro il 25 ottobre 2017. Cuochi di contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. Grazie a tutti!